Segnali di rallentamento per l'economia e il lavoro in Brianza. A lanciare allarme la CGL. Secondo il sindacato sarà un autunno tiepido per la produzione industriale nel territorio e probabilmente i primi mesi del 2024 si presenteranno ancora più difficili. Ci sono già oggi in molte aziende del nostro territorio alcuni segnali preoccupanti, sottolinea Walter Palvarini, segretario generale della CGL di Monza e Brianza. Si allungano i periodi di ferie, c'è meno ricorso al lavoro temporaneo per coprire turni estivi e tutto fa pensare che ci siano meno ordini programmati. Insomma, c'è un rallentamento nella produzione industriale. Il leader della Camera del Lavoro di Monza si riferisce ad alcuni settori metalmeccanici ma anche nella gomma plastica e in alcune aziende chimiche. Mentre in altri settori, come il legno, i segnali sono ancora positivi, segno più nelle esportazioni dal nostro territorio, anche se permangono i timori sulle dinamiche del mercato internazionale. Il quadro è incerto, continua Palvarini, e già sappiamo che da settembre arriveranno alcune richieste di cassa integrazione. Il sta andando tutto bene è un racconto che rischia di farci molto male, avverte il segretario generale della CGL in Brianza. Abbiamo invece bisogno di affrontare come urgenza alcune questioni. C'è chi nega la necessità di una trasformazione industriale per rispondere alla crisi climatica, ma così si rischia di rimanere indietro. Abbiamo la necessità di investire nella transizione necessaria al nostro futuro, anche nelle nuove tecnologie, per una piena digitalizzazione, spiega Palvarini. La Brianza è uno dei territori più esposti alle difficoltà che dalla Germania, in recessione da alcuni mesi, potranno ricadere sulle aziende in provincia. Una buona fetta della produzione industriale del nostro territorio è legata alla Germania e ad altri paesi dell'Unione Europea. Non possiamo essere indifferenti a ciò che succede in Europa, afferma il segretario generale della CGL. Oggi il turismo sta tirando, si registra effettivamente un buon flusso di stranieri nel nostro paese, ma questo non risolve i nodi storici dell'economia italiana. Il rallentamento generale dell'economia renderà ancora più complesso per l'Italia affrontare le urgenze che segnalavano da tempo, a partire, spiega Palvarini, dalla condizione reddituale delle famiglie e dei lavoratori.